Insulti, minacce, offese, pedinamenti e addirittura un tamponamento volontario dell'auto della sua ex datrice di lavoro avvenuto nella serata di ieri. Date le premesse, i carabinieri della stazione di Oria non hanno potuto fare altro che arrestare in flagranza di reato un 44enne del posto con l'accusa di atti persecutori e porto in luogo pubblico l'istrumento atto ad offendere. Dopo il tamponamento volontario, i militari dell'arma sono infatti intervenuti e hanno bloccato l'aggressore che dopo ulteriori accertamenti è risultato con tasso alcolemico superiore al limite consentito e che sul sedile anteriore dell'auto usata come ariete portava con sé una roncola poi sequestrata. L'odio per la donna è maturato dopo l'interruzione di un breve rapporto lavorativo. Non accettando il licenziamento, il 44enne ha iniziato a perseguitare la sua ex datrice di lavoro, titolare di una struttura ricettiva del luogo, con insulti, minacce, offese e pedinamenti, fino a ieri quando ha aspettato che la donna si mettesse al volante della sua auto per inseguirla e speronarla fortunatamente senza conseguenze gravi per la salute della stessa. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.